Facciamo il pane impanato con l'uovo. Tagliamo il pane a fette e sbattiamo due uova in un piatto. Impaniamo il pane nell'uovo. Facciamo riposare per circa 10 minuti. Mettiamo un po' di olio in una padella, accendiamo il fuoco e facciamo riscaldare. Appena l'olio è ben caldo, immergiamo il nostro pane impanato. Giriamo. Nel frattempo prepariamo un piatto con sopra un tovagliolo di carta. Togliamo le nostre fette di pane fritte e mettiamole nel piatto. Lasciate assorbire per circa 5 minuti l'olio del fritto e servite a tavola. Alcuni gradiscono cospaggere di formaggio, formaggio nostrano, la fetta di pane. A me piace così, riscoprendo i sapori della bisnonna. Buon appetito! Grazie. Grazie.